di un messaggio straordinario, stravolgente, di un messaggio divino e al centro non c'è la nostra chiesa di questo messaggio, non c'è la nostra persona, non c'è l'io credo, l'io penso, al centro di questo messaggio c'è Cristo, Gesù, il Signore. Alcuni hanno problemi, dicono io devo evangelizzare, ma che devo dire? Alcuni hanno problemi a iniziare un approccio evangelistico, un approccio di testimonianza, perché non sanno da dove iniziare, non sanno cosa dire, ma noi non è che dobbiamo chissà cosa inventarci, non è che dobbiamo fare chissà quali discorsi filosofici o altamente teologici, il nostro messaggio è semplice, è semplice, dobbiamo dire che Gesù è venuto in terra per essere il salvatore degli uomini, ma alcuni dicono ma è troppo semplice, ma è questo il messaggio del Vangelo, non c'è nulla di complicato nel messaggio del Vangelo, non c'è nulla di difficile del messaggio del Vangelo, Quindi Gesù è venuto in questo mondo per fare del Vangelo una potente realtà, questo è il nostro approccio evangelistico, è venuto in questo mondo per morire sulla croce del Calvario, annuncia questo, è venuto in questo mondo per risuscitare dei morti, per aprire la strada della salvezza, affinché tutti quelli che lo avrebbero ricevuto nel loro cuore potessero essere salvati, a volte forse ci sembra troppo semplice, è questo il messaggio del Vangelo, Non dobbiamo inventarci frasi ad effetto, persone che possono in qualche modo stuzzicare la fantasia, che possono toccare i sentimenti, non è un problema nostro andare in profondità nei sentimenti, Noi dobbiamo annunciare il semplice messaggio del Vangelo, non è un messaggio, ripeto, sulla nostra chiesa, sulla nostra denominazione, per quanto siamo grati a Dio per la nostra chiesa e la nostra denominazione, ma non è quello che noi dobbiamo annunciare, non si tratta di predicare sul nostro abbigliamento, sulla nostra musica, sicuramente saranno anche temi importanti, ma non possono salvare nessuno, il centro del nostro messaggio deve essere Cristo e lui solo crocifisso, a volte il problema di alcuni è proprio questo, perché non sanno né da dove partire, né cosa dire, né anche quale deve essere la sostanza del loro annuncio, e di conseguenza si perdono venendo meno a quella che è la chiamata, che il Signore ci ha rivolto, parla di Gesù, parla di Gesù che è venuto per essere il Salvatore del mondo, che è nato, che è morto, che è risorto, che adesso vive, e che ancora per mezzo di questa parola noi possiamo avere salvezza e vita eterna. Un'altra cosa importante che riguarda questo messaggio divino che noi dobbiamo annunciare, non solo che Gesù è venuto in terra per essere il Salvatore degli uomini, ma dobbiamo dichiarare che Gesù è l'unica speranza del mondo, cioè dopo aver parlato di Gesù come Salvatore, non possiamo far credere, e non lo crediamo neanche noi, che Lui è un Salvatore, Lui è il Salvatore, è l'unica speranza del mondo, è l'unica speranza di salvezza, non ce n'è un'altra, sta scritto ai Romani, infatti non mi vergogno del Vangelo perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo prima e poi del Greco, quindi non vergogniamoci del Vangelo, è la potenza di salvezza, proprio mentre stavamo prendendo il caffè dicevamo appunto questo, che alcuni non hanno l'ardire di parlare del Signore, di annunciare il Vangelo perché non credono fino in fondo che è la potenza di Dio per chiunque crede. Nella bacheca della mia chiesa c'è una locandina e c'è scritto il più grande bene che puoi fare alle persone che ami e parlargli di Gesù. Cioè se noi ci rendiamo conto che questo è il più grande tesoro, allora non avremo problemi a parlare di Gesù. Se ci rendiamo conto che questo è il più grande bene, non avremo problemi ad annunciare alla gente la salvezza. Cioè se noi sappiamo che Gesù è il nostro tesoro ed è un vero tesoro, non avremo problemi a dividerlo con gli altri. Cioè è come se noi appunto scopriamo un tesoro, il solito bauletto pieno di monete d'oro, ci rendiamo conto della preziosità e se siamo generosi vorremmo condividerlo con le persone che amiamo. Il motivo per cui a volte non si parla del Vangelo, molti non hanno l'ardire di annunciare la grazia di Dio è perché non credono fino in fondo che l'Evangelo è la potenza di Dio. Pensano che sia la religione di Dio. Ma non è così. L'Evangelo è la potenza di Dio per chiunque crede. Come crederanno se nessuno ne parla? Se nessuno lo annuncia? Noi siamo chiamati ad annunciarlo. Noi siamo chiamati a predicare l'Evangelo della grazia. Quindi il messaggio del Vangelo è ciò che chiunque ha bisogno di udire perché ha il potere, il messaggio del Vangelo, di cambiare la vita degli uomini, di determinare dove passeranno le eternità. Ci rendiamo conto della grande arma che abbiamo a disposizione, della grande possibilità che abbiamo a disposizione e ce ne siamo zitti, mentre gli altri vanno all'inferno, quando bastava soltanto dirgli Gesù ti ama per aprire dinanzi a loro un mondo nuovo di speranza, di salvezza e di vita eterna. Vedete, qui dice la scrittura in Giovanni 1, 11, 12 è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome. Vedete cosa può fare il Vangelo? Ci fa diventare, se lo crediamo, figli di Dio e non è certamente cosa da poco essere figli di Dio. Vedete, l'Evangelo ha il potere di cambiare il mondo e annunciare l'Evangelo significa parlare di Gesù, Gesù che è venuto per la salvezza degli uomini, Gesù che è l'unica speranza del mondo. Quando parli di Gesù e annunci questo messaggio ricorda anche che bisogna comunicare che Gesù è morto, è risorto e tutto questo è avvenuto secondo l'insegnamento delle scritture. Capite? Perché non è che è stata un'improvvisazione la venuta di Gesù qui su questa terra. Non è stata una cosa non prevista. Le scritture ne parlavano. È stato l'adempimento della profezia principale delle scritture. La profezia della scrittura continuamente si esprime annunciando quelli che sono i segreti, i misteri, la volontà di Dio ma in Gesù c'è stato l'adempimento principale della profezia. Non è una cosa, ripeto, che estemporaneamente si è verificata. Quello che era stato profetizzato migliaia di anni prima ecco che in Cristo ha preso forma. E vediamo che questo dà anche un'impronta divina a questo evento che è stata la nascita di Gesù. Quindi un messaggio semplice, facile da condividere ma è il più potente messaggio che il mondo abbia mai sentito. Non c'è un altro messaggio che Dio userà per la salvezza dei perduti. Dobbiamo comprenderlo. Non c'è un altro messaggio. Ci sono alcuni che fanno conferenze su vari temi sociologici importanti per carità umanistici importanti ma non danno salvezza. Ciò che dà salvezza è il messaggio del Vangelo. E noi questo messaggio, messaggio divino, dobbiamo annunciare perché è l'unico che ha il potere di salvare. Quindi quando vi accincete a parlare a qualcuno di Gesù non abbiate problema di cosa dire. Semplicemente Gesù è venuto al posto tuo per darti salvezza e vita eterna. È morto al posto tuo per darti salvezza e vita eterna. Gesù ti ama. Ha dimostrato questo dando la sua vita per te. Come hanno detto le scritture, come dicono le scritture, egli è nato, ha vissuto sulla terra, ha testimoniato la buona novella di Dio. Poi è stato crucifisso per pagare per i nostri peccati e è risorto e adesso vive e intercede per noi. E il suo desiderio è che tu sia salvato, che tu passi dalla morte alla vita. E se questo annuncio è condito da una vita coerente alla testimonianza che stiamo dando, certamente farà riflettere e lo Spirito Santo sarà in grado di sensibilizzare il cuore, lo spirito, affinché la gente possa fare un passo di fede nei confronti di questa meravigliosa grazia che il Signore ci offre. E' chiaro? E' importante che noi crediamo nella potenza di questo messaggio. Non abbiamo altro messaggio. L'Apostolo Paolo dice io non posso fare altro che predicare Cristo e lui solo crocifisso. Questo è il messaggio dei credenti. Questa è la missione della Chiesa. Annunciare Cristo Gesù il Signore. Domande? Se c'è qualche domanda, sì. Fate giungere il microfono alla sorella. Mi è capitato spesso di predicare in questo modo, che Gesù è Salvatore, Dio è Amore, eccetera, eccetera. Però mi trovo con le persone quasi tutte cattoliche e dicono che io credo in Cristo, so che è il Salvatore. E si chiude lì il discorso. Allora, per andare oltre, per rompere il ghiaccio, si parla dello Spirito Santo, di qualche cosa di potente che ha dato, cioè che se ne è dato Gesù ma ci ha lasciato lo Spirito Santo. perché altrimenti loro si trovano uguali a noi. Anch'io credo in Cristo. E in questo caso come... Ciò che fa la differenza in questo caso, quando noi abbiamo a che fare con delle persone religiose che fanno parte di una certa Francia cristiana, anche se poi lì ci sarebbe molto da dire, ma in questo caso ciò che fa la differenza è quello che noi viviamo. Cioè se tu sei religiosa come me, e credi come me, come mai tu dinanzi a questa situazione sei agitato e io sono sereno? Se tu sei religiosa e credi come me, come mai ti disperi mentre io ho grande pace nel cuore? Come mai tu hai dubbi sulla tua salvezza e sei terrorizzato al pensiero della morte mentre io sono certo della mia salvezza e so che il Signore anche nel momento della morte mi sarà accanto per portarmi poi nel cielo? Cioè la differenza che la gente fa, in modo particolare la religione, è proprio tra il loro modo di essere e il nostro modo di essere. Infatti molti credenti che vengono da un'esperienza religiosa praticante naturalmente, non soltanto nominale, ciò che li ha convinti a riflettere sulla sostanza dell'esperienza, sulla validità dell'esperienza, è proprio la vita vissuta di chi gli ha annunciato il Vangelo. Io ad esempio ho adesso, nella mente mi vengono alcuni casi, di credenti che veniva loro testimoniato del Signore quando erano religiosi, frequentavano anche la Chiesa, ma non avevano nessuna pace nel cuore, non avevano nessuna serenità nel cuore, mentre magari il cognato, la sorella, che gli parlava di Gesù, la sua vita era cambiata, avevano visto un cambiamento, perché vedete, la salvezza è cambiamento, che sia chiaro, non puoi tu essere salvato e rimanere come eri prima, non è successo nulla, ma se sei veramente salvato, tu cambi, in meglio, all'immagine di Cristo, e gli altri se ne accorgono. Mentre molti religiosi non cambiano, chi è salvato veramente cambia, capite? Cambia nello stile di vita, cambia nel modo di pensare, cambia negli scopi, cambia negli obiettivi, cambia nel modo di esprimersi, nelle finalità della vita, cambia nelle decisioni che fa, cambiano le priorità, e di conseguenza questo stile di vita che cambia sconvolge la gente che ci conosce. Ma se fino a ieri facevi questo, adesso non lo fai più? E tu lì hai una meravigliosa occasione per parlargli di Gesù. Perché non è che noi non facciamo perché ci autoimponiamo determinate cose. La vostra preoccupazione non deve essere quella di non peccare. Non dovete voi preoccuparvi di non peccare. Perché chi si preoccupa di non peccare si ritrova a cadere sempre negli stessi peccati. Noi dobbiamo preoccuparci di essere sempre di più ripieni di Spirito Santo. Punto. L'essere ripieni di Spirito Santo ci terrà lontani dal peccato in modo automatico. In modo automatico. Cioè, io non mi devo preoccupare di annullare il buio. Io mi devo preoccupare di accendere la luce. Capite? Alcuni hanno come scopo di vita ah, io non devo peccare. la mattina si alzano io non devo peccare. Ah, no, oggi non devo sbagliare. Oggi non devo peccare. Io non mi sono mai preoccupato di questo. La preoccupazione nostra deve essere quella di essere ripieni del Signore. E più siamo ripieni del Signore più non pecchieremo. Siate ricolmi di Spirito dice la parola di Dio. è quello che noi dobbiamo cercare di fare. Dobbiamo vivere per lo Spirito dice l'Apostolo Paolo e vivendo per lo Spirito non adempiremo i desideri della carne. Cioè, è una conseguenza, capite? Non è un'imposizione. Non è una lotta continua. Certo che si lotta. Ma non si deve lottare per nonne. Dobbiamo cercare di darci da fare per essere consagrati al Signore. E quindi, quando noi viviamo una vita cristiana coerente, consagrata a Dio, piena di frutti di ravvedimento, con un evidente cambiamento, allora già le nostre parole saranno la ciliegina sulla torta di quello che è già la nostra testimonianza comportamentale. Capite? Gli altri possono dire pure io credo. Noi a volte per scuotere gli diciamo anche il diavolo crede. Però trema. Cioè, capite? C'è modo e modo di credere. C'è un credere che salva, e qui ci dovremmo dilungare un po', e c'è un credere che non salva. Il credere che salva non è il semplice assenso mentale. Il credere che salva è uniformare la propria vita a quello in cui si crede. Se io credo che Gesù è il Salvatore, io accetto Gesù e vivo di conseguenza. Se invece io ne ho una convinzione mentale e magari conosco tutti i meccanismi tecnici del fatto, questo non mi serve a nulla per quanto riguarda la mia salvezza. Quindi noi vogliamo una fede che salva, un credere che salva. E il credere che salva farà la differenza tra il credere che non salva, con il credere che non salva. Capite? Questa è una cosa importante e fondamentale sulla quale dobbiamo basare la nostra esperienza di fede. Quindi, coscienti che abbiamo un messaggio divino, parliamone, annunciamolo, credendo che lo Spirito Santo farà il resto. Noi non dobbiamo badare ai risultati, anche se i risultati buoni ci piacciono, anche se li gradiamo, ci aiutano, ci sostengono. Noi dobbiamo badare all'annuncio del messaggio, a vivere coerentemente quello che predichiamo, perché poi il Signore è capace di fare il resto. Il seminatore si occupa di seminare. Dio poi manderà la pioggia, manderà il sole, farà il resto perché il seme germogli. Noi abbiamo una parte, Dio ha un'altra parte. Dobbiamo soltanto fare la nostra, non quella di Dio. Ma parla però la nostra, con coraggio. Qualche'altra domanda? nessuno? Bene. Andiamo avanti con l'altro punto. Sì? Cioè, voglio dire solo questo, che in 15 anni che mi sono battezzato ho constatato proprio che ci sono molte persone che non sanno esattamente come stanno le cose, come non le sapevo io prima di arrivare qua, col Signore. In effetti c'è proprio bisogno di annunciare come stanno le cose. Perché purtroppo la religione è l'anestetico della coscienza. Quindi alla gente basta soltanto essere un po' religiosi per mettere a posto un po' la coscienza, per sentirsi un po' appagati. Poi se fanno anche qualche buona opera non guasta. Si sentono ancora meglio. Cioè, non è che è sbagliato fare le buone opere. Grazie a Dio per le buone opere. Anzi, attenzione, si diceva anche questo mentre stavamo prendendo il caffè. Alcuni vanno al lato opposto. Dice, noi siamo salvati per grazia quindi facciamo una straccia. Non ce ne importa nulla delle opere. Ci comportiamo come vogliamo. No, attenzione. Noi non siamo salvati per le opere. Ma nello stesso tempo le opere sono la testimonianza poi della nostra salvezza. Perché molti leggono i versi 8 e 9 di Efesini 2 e per grazia che noi siamo salvati mediante la fede ciò non viene da noi e il dono di Dio affinché nessuno se ne vanti. Ma poi il verso 10 dice che siamo stati salvati per fare le buone opere che il Signore ha preparato per noi affinché le compissimo. Capite? Quindi non siamo salvati per le buone opere ma le buone opere che noi facciamo dopo sono la testimonianza della nostra salvezza. È chiaro che sia così. Cioè se io non opero di conseguenza la salvezza perdo la salvezza. Perché rigetto quello che il Signore ha fatto nella mia vita. cioè io non opero per essere salvato io opero perché sono salvato. Capite? E devo operare in modo consono alla salvezza. Quindi è importante che noi testimoniamo di Cristo potente crocifisso che usciamo fuori da quelli che sono gli ambiti religiosi perché come diceva il fratello molti non se ne rendono conto ma chi può far rendere conto a loro di questa necessità se non noi che abbiamo realizzato la vita di Cristo Gesù che abbiamo realizzato Cristo Gesù potente e vero. Capite? Quindi noi abbiamo un messaggio un messaggio che si esprime con le parole un messaggio che si esprime con la vita con la vita di tutti i giorni. La gente deve poter fare la differenza. Deve poter dire perché tu mentre io perché lui mentre l'altro cioè deve esserci una differenza. altrimenti cosa ha fatto il Signore nella tua vita? Non possiamo dire come a volte alcuni dicono io sono fatto così. C'è qualcuno che dice così? C'è nel periodo che dicevano o così o lo dicevano anche qui. Scusa se tu sei fatto così e sei fatto sbagliato eh ma il Signore cosa sta facendo nella tua vita? cosa sta facendo nella tua vita? Se l'essere fatto così è una giustificazione al male che magari ti comporti al male che pronunci al male che fai naturalmente noi dobbiamo dimostrare una vita cambiata una vita nuova perché questo opera la salvezza e questo fa parte della missione della Chiesa cioè testimoniare col modo di essere di coloro che ne fanno parte. Capite? Non è una scusante io sono fatto così e lo prendero o lasciare e permette al Signore di operare in tese se è sbagliato questo atteggiamento. È importante che noi comprendiamo che salvezza è un contenitore pieno eh e non vuoto pieno di quelli che sono i frutti del ravvedimento. Quindi un mandato divino la chiamata della Chiesa la missione della Chiesa comprende un messaggio divino ma dobbiamo comprendere anche che si tratta di una missione divina eh una missione divina andate dice Gesù per tutto il mondo predicati il Vangelo a ogni creatura poi in atti 1-8 sa scritto ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gelusalemme in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della Terra vedete la nostra missione è grande perché il nostro Dio è grande è chiaro? il nostro Dio è grande la salvezza che Egli offre è grande è grande questo sta scritto agli ebrei come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza questa dopo essere stata annunciata prima dal Signore ci è stata poi confermata da quelli che lo avevano udito quindi noi abbiamo una grande chiamata stiamo assolvendo una grande missione stiamo annunciando una grande salvezza perché stiamo servendo un grande Dio Amen quindi dobbiamo essere coscienti di quello che stiamo facendo di quello che siamo chiamati a fare quindi prima di tutto dobbiamo comprendere come già abbiamo accennato che è una missione affidata ad ogni credente nato di nuovo giustamente qualcuno diceva ma io non sono portato ad andare nelle piazze a intrattenere la gente a prendere di petto qualcuno naturalmente questo può dipendere anche dal nostro modo di essere dal nostro carattere però nello stesso tempo il fatto che noi non siamo chiamati portati come qualcuno diceva a fare questo in modo incisivo diretto non ci toglie dalla responsabilità di annunciare semplicemente tranquillamente cordialmente l'Evancello della Grazia raccontare la testimonianza della nostra salvezza questo lo possiamo fare tutti non c'è nessuno escluso se qualcuno dice ma io non ci riesco prega il Signore che ti aiuta non rassegnarti al fatto che tu non ci riesci non sei escluso perché riguarda questa missione divina riguarda tutti quanti noi tutti nati di nuovo tutti nati di nuovo ed è importante che noi prendiamo questa decisione questa decisione c'è un giorno che è stato dichiarato nell'ambito delle assemblee di Dio mondiali giorno di testimonianza dovrebbe essere tutti i giorni un giorno di testimonianza ma è stato istituito il giorno di testimonianza appunto sono stato in una riunione una settimana scorsa dove erano rappresentati 80 nazioni e si parlava appunto anche di questo il 30 maggio è il giorno di testimonianza e si invitava tutti i vari rappresentanti a coinvolgere tutte le chiese tutti i credenti il 30 maggio in modo tale che tutti quanti possano allestire naturalmente dei progetti dei programmi tesi alla testimonianza ma che ogni singolo credente prenda l'impegno in quel giorno di parlare del Signore almeno a una persona perché questo è il compito nostro è il compito nostro ti stai impegnando a portare in chiesa qualcuno ti stai impegnando a testimoniare del Signore a qualcuno non devi andare a fare discorsi escatologici difficili complicati teologici non è questo l'annuncio del Vangelo come dicevamo prima l'annuncio del Vangelo è semplicemente parlare dell'opera di Cristo e di quello che è successo nella tua vita nella tua vita questo è l'annuncio del Vangelo e questo riguarda ogni nato di nuovo è una missione affidata a ogni nato di nuovo non ci sono i professionisti quindi soltanto loro lo devono fare ci sono le attività che la chiesa mette in campo come servizio come attività della chiesa quella è un'altra cosa ma il fatto che il gruppo evangelistico testimoni tutte le settimane non esclude me da questa responsabilità che sia chiaro questa è la missione della chiesa e la chiesa non sono loro la chiesa sono io sei tu siamo noi e dobbiamo in qualche modo entrare in questa chiamata che il Signore ci ha rivolto non soltanto è una missione affidata a tutti i nati di nuovo ma è una missione che prevede un'autorità delegata quando io vado a parlare a qualcuno della grazia di Dio non parlo in nome di Angelo Gargano parlo nel nome del Signore parlo per conto del Signore sto adempiendo un ammandato che mi è stato dato dal Signore io sto facendo in quel momento l'ambasciatore e l'ambasciatore rappresenta il governo che lo manda e a noi ci ha mandato il governo del cielo il cui capo è Cristo Gesù il Signore della gloria è questo che disse Gesù a date dunque fatemi discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo quindi è importante che noi ci rendiamo conto che quando andiamo non stiamo andando soli stiamo adempiendo a un comando stiamo facendo quello che il Signore ci chiede di fare e io credo che tutti quanti noi abbiamo nel cuore almeno il desiderio di fare la volontà di Dio e parte della volontà di Dio è che noi adempiamo alla missione della Chiesa alla missione dei credenti che è di testimoniare e poi anche è una missione rivolta a tutti e il campo di azione è il mondo il campo di azione è il mondo il mondo intero alcuni saranno chiamati ad andare altri come dicevamo prima a pregare altri ancora a dare ma l'obiettivo comune è adempiere il grande mandato lasciatoci dal Signore Gesù Cristo alcuni magari vogliono andare chissà dove sognano l'Africa sognano la Cina sognano l'Asia posti remoti quando magari anche vicino a casa nostra possiamo adempiere la nostra missione certamente ci saranno coloro che saranno chiamati ad andare in Cina ad andare in Africa ad andare nei Balcani non tutti saremo chiamati a far questo ma tutti siamo chiamati a testimoniare di Cristo Gesù alcuni andrebbero volentieri in Africa a parlare del Signore ma nella loro chiesa non muovono un dito nel loro ambito nel loro ambiente non parlano mai dal Signore ma non funziona così eh non funziona così noi dobbiamo cominciare prima di quelli di casa nostra Gerusalemme Giudea Samaria fino all'estremità della Terra se tu non hai il coraggio l'ardire di parlare del Signore al tuo collega al tuo vicino al tuo amico come puoi pensare che il Signore ti chiami a fare qualcosa di più impegnativo di più ampio è chiaro? dobbiamo cominciare cercando di fare quello che la nostra mano trova da fare dice l'Ecclesiaste e poi naturalmente il Signore che è fedele vedendoci ancora impegnati nelle cose minime ci darà anche da fare la responsabilità delle grandi quindi non tutti andranno in terra straniera per raccontare la storia di Cristo la storia della salvezza ma il Signore si aspetta che tutti lo facciamo lì dove viviamo senza riguardi personali concernenti la razza la cultura lo stile di vita le possibilità economiche ma vogliamo essere testimoni a tutte le genti è chiaro? è una missione che ci riguarda tutti quanti possiamo essere missionari nel nostro ambiente nella nostra città nella nostra famiglia nella nostra scuola nel nostro ambiente di lavoro negli amici che frequentiamo quando andiamo a fare la partitella a calcetto c'è sempre un'occasione per poter parlare del Signore e c'è anche un mandato che noi abbiamo per parlare del Signore si tratta di un mandato divino che prevede una missione divina e che annuncia un messaggio divino quindi non è cosa umana quella che siamo chiamati a fare è qualcosa che parte dal cuore di Dio e il Signore certamente è con noi e lo vedremo più avanti per aiutarci nell'espletamento di questa meravigliosa chiamata che abbiamo ricevuto qualche domanda? allora uno e due sì pastore Gargano così desidero aggiungere qualcosa a proposito è una missione affidata a tutti i nati di nuovo precedentemente ci sono stati due interventi si parlava di incontrare giustamente vivendo in una nazione cosiddetta cristiana persone religiose e l'esperienza mi dice questo sapete quando come si manda in crisi un religioso in Italia? io credo in Gesù io ho sentito parlare di Gesù io vado in chiesa nel momento in cui si fa la domanda che Gesù fece a Nicodemo vanno in crisi tu credi in Gesù ma sei nato di nuovo? la differenza nella vita del credente la fa la nuova nascita la rigenerazione interiore il contatto dell'Evangelo è proprio questo noi viviamo di religione nel mondo ce ne sono tante non c'è bisogno di aggiungerne altre ma stando nel nostro giro nell'interno della nostra nazione degli amici conoscenti e parenti che si definiscono persone che conoscono la sanno e tutto quello che si vuol dire ma nel momento in cui Gesù ha fatto la domanda a Nicodemo ha detto se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio ed è importante per noi predicare l'Evangelo o a tu per tu o a due persone o nelle piazze ma questa è la centralità dell'Evangelo essere nati di nuovo è importante non c'è salvezza senza nuova nascita c'è soltanto convinzione religiosa la sorella qui avanti succede che anch'io sono una di quelle persone che fa fatica a parlare a un pubblico vasto magari mi capita di parlare al mio prossimo però il primo prossimo che ci capita è la nostra famiglia cioè io mi sono convertita a un periodo che praticamente mio marito non era presente non c'era in casa non era con noi e poi cosa succede lo spirito santo anche ti cambia durante questo percorso ti fa capire delle cose certe cose che magari prima certi atteggiamenti che avevi non riesci più ad averli certe abitudini che avevi non ti piacciono più perché senti questo di dispiacere anche a signore anche a te stessa e poi succede che quando è tornato mio marito nel mio caso mi ha detto ma tu sei troppo cambiata ma va anche dalle cose semplici tipo magari guardare un film magari a lui piacciono quei film un po' terrore io non me la sento più non riesco più a vedere queste cose perché sento proprio nell'anima che queste cose non sono buone non dispiaciano al signore cioè non sono accettevoli è come anche magari certi comportamenti dei figli che magari prima li accettavi poi insomma non sono cose accettabili è normale perché cambia la sensibilità anche interiore cambia la sensibilità e di conseguenza non riesci a stare in silenzio perché senti che queste cose non sono buone e le dici le racconti insomma le spieghi così allora praticamente questo cambiamento a volte sembra quasi scomodo cioè a volte diventa scomodo per chi ancora non è convertito e che ancora lo spirito santo non lo ha convinto sembra quasi che cioè essere in Cristo è quasi una cosa che una cosa come si dice dirompente ecco non solo dirompente è quasi sconveniente perché magari può essere noioso o certe cose che facevano ma bisogna accettare la sfida eh sì questo sicuramente però durante in questo frangente allora cioè sembra quasi il messaggio che essere con Cristo cioè significa avere problemi ecco avere problemi e magari anche noioso non fare più determinate cose Gesù non nascose questa parte della verità Gesù disse io sono venuto a mettere la spada sì erso e questo è proprio quello che accade in una famiglia eh sì quando qualcuno accetta il Signore naturalmente gli altri fino a quando non sono convinti della stessa bontà della salvezza di Dio eh naturalmente c'è questo conflitto che si verifica e poi succede che a volte magari perdi la pazienza come perché siamo umani a volte magari anche ti arrabbi e dici ecco tu sei cristiana tu sei così vai sempre in chiesa questo è quello che accade ecco se essere cristiana vuol dire essere così allora forse non cambia neanche dobbiamo dobbiamo noi cercare in quel caso lì di essere molto attenti e soprattutto non trascurare non chiudere gli occhi sulle macchinazioni del diavolo sulle provocazioni del diavolo eh quindi dobbiamo cercare di non perdere la pazienza comunque no diciamo che non tutto è perduto si può anche anche se si fanno degli errori tante volte perché la pazienza la perdiamo tutti Signore ci aiuta va bene il Signore ci aiuta però non possiamo noi per paura di qualche contestazione nell'ambito familiare non annunciare la grazia di Dio o non essere quello che noi riteniamo dover essere o quello che il Signore ci ha chiamati ad essere sì quindi certo che dobbiamo accettare la sfida dobbiamo accettare anche le conseguenze della nostra fede se è il caso ma proprio la nostra coerenza alla fine farà riflettere le persone la nostra coerenza lì per lì ti diranno che sei radicale ti diranno che sei bigotta ti diranno tante altre cose però poi questo li porterà a riflettere lo Spirito Santo li guiderà in una giusta comprensione delle cose cosa diversa se invece noi diciamo di essere cristiani ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla nella nostra vita se non è successo nulla nella nostra vita e non è cambiato nulla nella nostra vita non stiamo rendendo un buon servizio al Signore e alla nostra fede cristianesimo la conversione è cambiamento e non possiamo noi determinare il nostro cambiamento in base all'indice di gradimento degli altri ciò che ci deve interessare essendo cristiani è il gradimento di Dio amèn grazie sorella stavo chiedendo di parlare chi? a chi? grazie però è molto disarmante quando di petto tu cominci a parlare con la tua famiglia e quando subito ti dicono ma tu credi veramente quello che dice ma credi veramente che c'è Dio a questo punto uno dice se già comincia a avere questa battaglia in casa non osa pensare che cosa è fuori perché io ogni volta che comincio a parlare a casa mi fa mamma non cominciare ma tu credi veramente a quello che stai dicendo io non voglio mica perdere il tempo per sentire queste cose come si deve fare una persona in questo caso? gli deve dimostrare che ci credi veramente ma è una battaglia mi creda sì allora come dicevamo prima bisogna prendere contatto con tatto non bisogna essere invadenti eccessivamente bisogna cercare di parlare approfittando delle occasioni nel momento opportuno dando sempre la parola di testimonianza nell'ambito familiare diventa un po' complicato perché noi viviamo con i nostri familiari sempre naturalmente non è che sempre possiamo parlare loro del Signore ma sempre possiamo vivere un cristianesimo vero e reale io con mia figlia ci vivo è proprio quello il problema quindi tua figlia deve capire che quello che tu annunci dici è vero senza più ombra di dubbio dal fatto che lo vivi no per esempio dico questo e poi basta siccome lei è da 4 anni che dove lavorava le hanno lasciato a casa e adesso ha la ricerca del lavoro ogni tanto quando io gli dico ma provi a pregare al Signore e metti la tua vita nelle sue mani magari fa mamma noi già io sto combattendo per trovare il lavoro e poi alivite ancora ma vuoi capire che non c'è Dio ma certe volte è proprio sconvolgente è sconvolgente perché non hanno creduto sono ciechi non c'è da meravigliarsi o da preoccuparsi o da allarmarsi o da affliggersi più di tanto per quanto l'afflizione c'è se uno è cieco tu ti arrabbi perché non vede? no io non è che mi arrabbio però certe volte no no ti sto dicendo capisci quello che dico io ho capito quello che sta dicendo però è quello che intendo dire se io ho tutta questa difficoltà a parlare a farmi ascoltare in casa proprio a volte mi domanda come faccio io a avere un approccio con una persona che non conosco no non farti troppe domande ti fai sorella magari può darsi che quella persona è più disponibile ad ascoltare ma al di là di tutto la Bibbia dice di gettare il pane sulle acque verrà il tempo in cui sarà raccolto il seme che veniva seminato dal seminatore non è che tutto quanto portava frutto però c'era una parte che portava frutto se tu non semini neanche quella parte che porterebbe frutto potrà portare frutto cioè non è che possiamo buttare l'acqua con come si dice l'acqua sporca con eh dobbiamo saper discernere nello stesso tempo noi dobbiamo fare quello che dobbiamo fare quello che siamo chiamati a fare non dobbiamo preoccuparci dei risultati noi ci preoccupiamo a volte dei risultati come se fosse merito nostro è merito della grazia di Dio opera dello Spirito Santo ma nello stesso tempo noi dobbiamo fare la nostra parte perché Dio ha stabilito un modus operandi eh per quanto riguarda la salvezza che noi predichiamo lo Spirito Santo convince lui salva questo è il lavoro che dobbiamo cercare di fare noi annunciamo il Vangelo dobbiamo farlo a contatto e poi una cosa che dobbiamo comprendere è che se uno non è figlio di Dio dobbiamo invitarlo a diventare figlio di Dio figlio di Dio a volte noi invitiamo la gente noi ci crediamo lo facciamo nella nostra semplicità ad andare al supermarket di Dio eh o andare all'ospedale di Dio certo noi crediamo che il Signore provveda ai nostri bisogni ma il Signore ha preso degli impegni nei confronti dei Suoi figli mica nei confronti dei miei figli se non sono Suoi figli potrà anche operare per amore del Suo nome per amore mio eh che sono Suo figlio ma non è quella la normalità è importante che noi lo crediamo il Signore ha preso degli impegni nei confronti dei Suoi figli dei Suoi figli degli impegni particolari vero è che il Sole sorge sui giusti e sugli ingiusti il Sole come la pioggia ma poi ci sono benedizioni particolari che riguardano non tutti gli uomini ma i Suoi figli ai Suoi figli il Signore dice che avrebbe provveduto il necessario mica gli altri non facciamo anche noi così a casa nostra non ci occupiamo prima di tutto dei nostri figli soprattutto dei nostri figli quindi eh se una persona dice Signore io ho bisogno di lavoro provvedi il lavoro la regola di Dio un'altra cercate prima ammen è sembrato una chiesa cattolica cercate no no la litania no beh questo qui è bello perché conosciamo questo verso però dobbiamo crederlo fino in fondo cercate prima il regno e la giustizia di Dio questo è per i Suoi figli in modo particolare immaginiamoci per gli altri eh ancora di più quindi se tu vuoi l'assistenza di Dio l'aiuto di Dio il sostegno di Dio diventa figlio di Dio ma no non è che lo credono cioè anche se lo credono non lo sono non è che cambia molto capite però è importante che noi comprendiamo questo perché vedete a volte noi ci occupiamo ci preoccupiamo di cose marginali ci preoccupiamo ad esempio ah quello lì che grande peccatore quante cose brutte certo le cose brutte non sono belle sono brutte ah quello lì invece no è più bravo certo ci fa piacere che è più bravo però tutti e due sono perduti cioè ciò che fa la differenza non è il fatto che uno ruba e l'altro ammazza ciò che fa la differenza dal punto di vista spirituale è il fatto che uno si è pentito dai propri peccati e è diventato un figlio di Dio e che l'altro invece ancora no capite a volte noi misuriamo secondo dei canoni nostri e non funziona così la madre di tutti i peccati non è l'assassinio la guerra la madre di tutti i peccati è l'ingredulità io non non so forse perché è stato preso un po' in modo vago il discorso che alcune benedizioni sono solo per i figli di Dio probabilmente andando nello specifico ci ritroviamo ad essere d'accordo su quello che sto dicendo adesso però secondo me io ad esempio a me molte volte capita di parlare con dei ragazzi che mi dicono come fai ad essere così tranquilla su questa situazione e mi sta capitando spesso soprattutto nell'ultimo periodo e io mi sono resa conto che in realtà una delle frasi che dico di più è a noi giovani piacciono tanto le sfide e quello che mi ritrovo a dire è di sfidare Dio in un'area della loro vita si vedono che qualcosa non va e ci sono delle persone che magari hanno bisogno di trovare lavoro e io ho detto guarda facciamo così ti lascio il mio numero tu sfida Dio nella tua cameretta e dici cambia questa situazione nella mia vita se non lo fa chiamami e dimmi guarda quello che mi ha detto una cavolata ma io ci credo che Dio possa cambiare con l'area della sua vita l'ha fatto con me e non l'ha fatto nel momento in cui ho detto io sono figlia di Dio l'ha fatto magari il giorno in cui io le ho voltato le spalle quindi la benedizione cade anche sulle persone che abbiamo detto che il sole sorge sui giusti e sugli ingiusti ci sono alcune cose che sono generali anche l'esempio di Giovanna sì però vedete ci sono alcune cose che sono generali che riguardano possono riguardare tutti ma ci sono alcune benedizioni che sono particolari che riguardano solo i figli di Dio ma perché questa è la regola l'eccezione è un'altra cosa l'eccezione è un'altra cosa ma il Signore si è impegnato nei confronti dei suoi figli non nei confronti degli altri in questo senso e Dio si è impegnato anche con Giovanna che avrebbe salvato tutta la sua casa lì c'è una una cosa da considerare per quanto naturalmente adesso non voglio demolire nessun pensiero al riguardo quando Gesù disse quando l'apostolo Paolo disse al carceriere di Filippi credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua non stava parlando dell'automaticità della salvezza stava parlando del fatto che potenzialmente la salvezza era entrata in quella casa ed era una promessa che riguardava in modo circostanziale in quella situazione il carceriere di Filippi non è una cosa automatica cioè il fatto che io sono salvato perché è un percorso individuale esatto quindi quando il Signore quando noi spesso stiamo a dire questa frase io non voglio togliere adesso questa speranza a nessuno per carità io ci credo molto però bisogna esaminarla nella realtà delle cose allora credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la casa tua è stato rivolto al carceriere nel caso del carceriere si è adempiuto matematicamente in quanto fu salvato lui la sua famiglia e furono battezzati per quanto riguarda il senso generale della promessa è da intendere come la potenzialità della promessa dei nostri familiari in quanto essendo entrata alla luce la mia esperienza di salvezza gli altri hanno la possibilità attraverso la mia testimonianza attraverso il mio stile di vita attraverso la mia presenza di poter realizzare la stessa salvezza ma noi sappiamo che matematicamente non è così e non è così in modo automatico perché tante volte dobbiamo pur dire che non tutti i familiari dei credenti vengono salvati questa è la realtà o no è la realtà credo anche che però dove c'è lo spirito santo le cose cambiano ma non c'è dubbio ascoltatemi non c'è dubbio che dove c'è lo spirito santo le cose cambiano non c'è dubbio che noi dobbiamo pregare per i nostri ascoltate non c'è dubbio che noi dobbiamo pregare per i nostri figli dobbiamo farlo continuamente però dobbiamo anche spingere i nostri figli credo io sono un padre credetemi io sono un padre dove ho un figlio convertito e uno no quindi vi parlo con cognizione di causa eh io certo che quando c'è mio figlio che ha un problema che ancora non ha dato il cuore al Signore cerco di spingerlo a rivolgersi al Signore però il mio obiettivo di padre non è tanto che il Signore gli provvedo lavoro quello che io dico a mio figlio è accetta Gesù come personale salvatore il resto verrà di conseguenza perché Dio poi si prenderà cura dei suoi figli vedete perché che mio figlio lavori può avere significato da un punto di vista sociale familiare ma non è il mio principale obiettivo che io invito mio figlio a pregare per il lavoro ma per carità posso anche dirglielo ma non posso indicare però Dio come il supermercato dove andare a prendere quello che ti serve cioè per me Dio prima di tutto è il salvatore mi perdoni non c'è dubbio per carità io non sto mettendo mi perdoni io non sto mettendo in dubbio i modi di Dio io sto parlando di quella che è la realtà del Vangelo di Dio poi naturalmente i modi il Signore li cuce direttamente addosso a noi c'è uno che ha l'esperienza che magari per arrivare a Dio ha dovuto vedere qualcosa qualche altro ma lo scopo di Dio alla fin fine non è che io abbia un buon lavoro lo scopo di Dio nell'operare non è che io abbia una buona salute lo scopo di Dio nell'operare non è che io abbia una buona macchina lo scopo supremo di Dio è che io sia salvato ma non si è detto che anche questa no ma ci siamo capiti sorella non credo che valga ancora la pena io ciò che voglio farvi comprendere è questo perché altrimenti purtroppo c'è questo tipo di tendenza anche in un certo ambiente evangelico qual è la tendenza di cercare le cose di Dio ma non l'iddio delle cose io vorrei che noi ci siamo capiti forse stiamo dicendo la stessa cosa vorrei puntualizzare questo fatto che ciò che è importante non è quello che Dio può darmi quello che è importante è Dio punto al di là di quello che può darmi figlio mio per te non è importante che il Signore ti provveda questo per te è importante Dio forse è proprio questo che io ho cercato in certa maniera sorella va benissimo io sto capito quello che tu hai detto e sono per carità io sto volendo adesso senza entrare nel personale mettere in evidenza una verità fondamentale anche noi diciamo chi ha un problema prega il Signore prega il Signore ma il nostro scopo nel dire prega il Signore almeno il mio quando c'è una coppia che si sta separando e non è credente mi viene a raccontare dei suoi guai io gli dico preghiamo il Signore ma nella mia mente nel pregare il Signore non c'è il fatto così diventate una bella famiglia così il Signore vi salva e di conseguenza sarete una bella famiglia ma che tu vai all'inferno con un buon rapporto coniugale o che ci vai con un divorzio alle spalle cosa cambia alla fine? che tu ci vai all'inferno avendo un ottimo lavoro essendo disoccupato ma cosa cambia alla fine? certo pregami il Signore per il tuo lavoro ma la mia preghiera non è finalizzata come scopo prioritario al lavoro è finalizzata a che il Signore ti si riveli ti salva e poi tutto il resto ti sarà sopraggiunto state capendo il concetto stiamo dicendo probabilmente la stessa cosa in un modo diverso ma ciò che dobbiamo evitare perché purtroppo questo problema si sta verificando in certi ambienti è di vedere o di annunciare Dio come il gestore di un supermercato tu prendi quello che ti serve dopodiché punto hai raggiunto il tuo scopo non importa più nulla no no Dio vuole fare di più che darti qualcosa Dio vuole essere qualcuno per te capite questo deve essere lo scopo principale della nostra maniera certo che poi il Signore ha tanti modi per raggiungerci per toccarci lui ci conosce conosce le nostre sensibilità conosce il nostro essere interiore ma ciò che dobbiamo mirare questo è il messaggio dell'Evangelo di annunciare Gesù come salvatore del mondo però naturalmente dobbiamo il Signore ci deve aiutare essere in grado di presentare la salvezza come un pacchetto completo di benedizioni come un pacchetto completo di benedizioni la salvezza non è soltanto mi salva vado in cielo no no la salvezza è un continuo vivere ogni giorno con l'assistenza con l'assistenza e l'aiuto di Dio è normale che sia così capite? è questo che in qualche modo è il messaggio che noi abbiamo dinanzi la missione che il Signore ci ha affidato quello di parlare di Gesù come salvatore del mondo poi è normale che Dio è un buon padre ma quando parliamo di un buon padre stiamo parlando anche di figli e chi sono i figli? tutti gli uomini tutte le donne eh io credo che abbiamo superato questo scoglio no? i figli di Dio non sono tutti gli uomini e tutte le donne tutti gli uomini e tutte le donne sono creature di Dio ma se diventa figli accettando Gesù come personale salvatore d'accordo? quindi è normale che c'è una dispensazione per i figli della grazia di Dio è una dispensazione per quelle ancora che non lo sono ma l'obiettivo finale di Dio non è la mia salute l'obiettivo finale di Dio non è il mio lavoro l'obiettivo finale di Dio non è il mio benessere l'obiettivo finale primario di Dio è la salvezza della mia anima e se il Signore deve smuovere qualcosa a cui io tengo per salvarmi per darmi una dimostrazione lo fa anche cosa diversa per i figli di Dio che sono salvati ecco per i figli di Dio che sono salvati lo scopo di Dio è quello di assisterli a 360 gradi tutti i giorni della loro vita è chiaro il concetto io spero di essermi spiegato probabilmente ripeto volevamo dire più o meno la stessa cosa in modo diverso ma questo è il messaggio della salvezza il messaggio della salvezza è Cristo Gesù che perdona i nostri peccati e ci dà la vita eterna e poi naturalmente naturalmente il Signore avrà tanti modi ognuno di noi ha una storia personale da raccontare però c'è differenza nel modo anche di approcciarsi e di agire da parte di Dio tra i figli e i non figli cioè a volte noi confondiamo l'amore di Dio con la condiscendenza di Dio con il gradimento di Dio Dio ama tutti ma non gradisce tutti Dio ama tutti ma gradisce gli uomini di buona volontà cioè gli sono graditi quelli che fanno la sua volontà mentre tutti quanti gli uomini sono l'oggetto dell'amore di Dio e l'amore di Dio non è come il nostro di più di meno Dio ama sempre al massimo della sua espressione lui è amore non c'è una misura dell'amore di Dio l'amore di Dio è costante sempre per tutti uguale per tutti naturalmente il gradimento del Signore è relativo relativo al nostro camminare nelle sue vie al nostro fare la sua volontà spero di aver chiarito il concetto e non lasciare confusioni non lasciare confusioni dopodiché abbiamo detto che si tratta di una missione divina ma andando avanti vediamo anche che la missione della Chiesa prevede anche una mietitura divina quando noi parliamo del Signore adempiamo la missione che il Signore ci ha affidato è importante che noi ci aspettiamo dei risultati è importante che noi ci aspettiamo dei risultati perché se non ci aspettiamo dei risultati stiamo soltanto adempiendo un dovere ma se noi crediamo che la predicazione è potenza di Dio per chiunque crede dobbiamo anche aspettarci dei risultati a volte succede che alcuni parlano del Signore pregano per i loro parenti inconvertiti senza aspettarsi un risultato io mi ricordo una volta un po' di anni fa una ventina di anni fa ero all'inizio del mio ministerio nella chiesa dove sono adesso e una sorella venne a chiedermi di pregare per il marito a me quando qualcuno mi chiede prega per mio figlio o per mio zio o per mio cognato gli chiedo hai parlato di Gesù gli hai parlato del Signore una domanda che gli faccio perché voglio che capisca che è importante che noi parliamo del Signore è importante pregare ma non basta bisogna parlare del Signore e lei mi fa si si ho parlato del Signore ma vorrei che si pregasse per mio marito anche se non credo che si possa convertire come non crede tu mi chiedi di pregare se non credi ma tu non lo conosci tu non lo conosci hai trent'anni che ci vivo cioè noi dobbiamo attenderci una ammietitura una ammietitura divina quando adempiamo il grande mandato quando adempiamo la volontà di Dio andate dunque dice la scrittura fate mie discepoli tutti i popoli battezzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandato vedete la Chiesa è chiamata a fare discepoli di Gesù Cristo qualunque cosa Dio ci chieda egli ci fornisce il necessario perché noi possiamo compierla vedete qui la scrittura dice di fare discepoli vale a dire discepoli non sono i maestri i discepoli sono gli studenti quindi dobbiamo andare e fare studenti un discepolo è qualcuno al quale è insegnato qualcosa che impara a fare e ogni vero discepolo è ogni vero cristiano è un discepolo perché siamo alla scuola del Signore dello Spirito Santo il verso che abbiamo letto qui in Matteo contiene tre verbi che rivelano il giusto modo di fare discepoli cioè andare battezzare e insegnare alcuni vorrebbero fare discepoli senza andare oppure senza poi portarli a una decisione a un patto al battesimo senza insegnare ecco questi tre modi sono importanti perché i verbi rappresentano azione parlano di azione quindi andare battezzare insegnare questo ci dice la parola di Dio perché possano venire fuori dei discepoli quindi è compito anche della Chiesa missione della Chiesa andare battezzare discepolare insegnare insegnare le cose di Dio tutte quante le cose che io vi ho comandate dice il Signore le cose che il Signore ci comanda sono quelle che noi dobbiamo insegnare dobbiamo rimanere attaccati fermi alla parola di Dio questo è esattamente quello che fecero i primi discepoli di Gesù Cristo andarono dappertutto proclamare che Gesù era morto ed era risorto per dare salvezza al peccatore penitente coloro che credevano erano battezzati questo ci dice la storia della Chiesa come testimonianza della loro fede del Signore e Gesù Cristo ed erano ammaestrati sulla parola di Dio è importante che si dedichi come state facendo voi nella comunità del tempo delle attività delle attività per ammaestrare i credenti per discepolare i credenti nelle cose del Signore sulla parola di Dio quindi la semina certamente come dicevamo diffusamente è faticosa ma la mietitura è gloriosa e i frutti dell'ubbidienza dei primi discepoli sono aggiunti fino a noi anzi quei frutti siamo noi noi siamo i frutti dell'ubbidienza dei primi discepoli è importante che noi comprendiamo che abbiamo questa responsabilità di fare discepoli e ciò può avvenire andando battezzando insegnando è dura la mietitura anche perché quando la semina anche perché quando noi seminiamo seminiamo per fede seminiamo sempre per fede non abbiamo nessuna certezza che quel seme dia del frutto a volte c'è il rischio che il seme che abbiamo seminato tra virgolette comprendete quello che sto dicendo si possa perdere anche il seminatore impegna non so due quintali di grano tre quintali di grano nel seminare un campo probabilmente qualcosa lo indurrebbe a dire di evitare questa fatica e che ne so se viene una tempesta e che ne so se il sole non sarà abbastanza e che ne so se ci sarà un allagamento e che ne so cioè le incertezze possono esserci ma chi semina semina in fede in fede non semina perché sicuramente quel seme produrrà frutto ma crede che può che produrrà del frutto e anche noi quando seminiamo non è che seminiamo con certezza seminiamo in fede la certezza nostra è nella speranza che abbiamo nel Signore ma succede che seminiamo a cento persone ne viene uno al Signore gloria a Dio però non possiamo soltanto perché è faticoso seminare evitare di seminare Dio ha ancora un grande numero di eletti da raggiungere ha un grande numero di persone da aggiungere alla Chiesa e noi ancora oggi vogliamo essere con gli strumenti nelle mani di Dio vogliamo adempiere a questo imperativo che viene fatto qui nella parola di Dio quindi come possiamo fare discepoli di Gesù Cristo possiamo fare discepoli di Gesù Cristo nello stesso modo attraverso il quale i credenti del primo secolo fecero discepoli alcuni vogliono che le loro chiese crescono senza seminare non funziona così non funziona così bisogna seminare quindi per fare discepoli di Gesù Cristo bisogna prima di tutto andare il mandato di Gesù prevede di andare di andare nella nostra città oltre i confini della nostra città parlare a tutti ebrei non ebrei i primi discepoli non lo compresero subito i primi discepoli capirono che il loro campo d'azione forse era soltanto Gerusalemme e stavano solo a Gerusalemme il Signore dovette permettere non determinò lui una persecuzione ma permise che una persecuzione si verificasse perché oltre Gerusalemme potessero andare in Giudea Samaria fino all'estremità della terra quindi il messaggio del Signore è rivolto a noi affinché andiamo andiamo verso tutti i popoli della terra quindi dobbiamo contare sull'autorità di Gesù credere che il Signore sarà il nostro aiuto il nostro conforto e adempiere il grande mandato a beneficio di tutti i popoli in secondo luogo bisogna battezzare qui non voglio dirvi tanto voglio spendere solo poco tempo intorno a questo argomento ma desidero dirvi soltanto un paio di cose prima di tutto il battesimo è una testimonianza esteriore di un cambiamento interiore è una testimonianza esteriore di un cambiamento interiore è una dichiarazione pubblica della propria fede e della volontà di voler seguire Gesù ed essere suo discepolo vedete noi non riceviamo il battesimo per essere salvati ma riceviamo il battesimo perché siamo salvati amèn perché siamo salvati non riceviamo il battesimo per essere salvati noi siamo salvati proprio perché siamo salvati vogliamo ubbidire al comando di Gesù di essere battezzati quindi quando io mi battezzo sto testimoniando della mia fede in Cristo non sto realizzando la mia esperienza di fede in Cristo la mia esperienza di fede l'ho realizzata prima ed è per questo che mi battezzo è chiaro? ecco perché dobbiamo cercare di battezzare persone nate di nuovo nate di nuovo perché il battesimo è per i nati di nuovo non per farli nascere di nuovo e infine dice qui Gesù bisogna insegnare fino a quel momento Gesù era stato l'insegnante ora e gli passa il testimone ai discepoli non si tratta di insegnare le proprie idee ma esclusivamente tutte le cose che Gesù ha comandato si noti che bisogna insegnare a osservare quindi vedete l'essere discepoli non è soltanto il mettere nella propria mente nel proprio cervello soltanto delle nozioni ma insegnare a osservare essere discepoli ci porta a una vita pratica l'obiettivo non deve essere solo quello di comunicare delle informazioni ma la trasformazione del carattere è l'applicazione della parola di Dio alla vita di tutti i giorni questa è missione della Chiesa andare battezzare fare discepoli insegnando ad osservare insegnare cioè ad osservare tutte le cose che Gesù ha comandato questo è quanto riguarda nei compiti che il Signore ha affidato a noi alla Chiesa del Signore qualche domanda prima di passare all'altro punto no allora andiamo avanti il tempo scorre la nostra missione naturalmente è importante che questo lo comprendiamo prevede anche l'aiuto di un maestro divino quindi abbiamo visto che la missione della Chiesa non ha nulla di umano tutto quello che si fa nell'ambito della Chiesa per il Signore è riconducibile appunto alla chiamata che abbiamo ricevuto e quindi a del divino ed ecco dice Gesù io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente Gesù non ci invia in questo mondo senza aiuto o senza risorse egli non pretende che noi adempiamo il grande mandato con le nostre sole forze egli mette a disposizione quello che ci occorre anzi lui mette a disposizione chi ci occorre eh chi ci occorre a noi ci occorre la sua presenza eh ci occorre la sua presenza che noi abbiamo ricevuto e abbiamo per mezzo dello Spirito Santo quindi Gesù promette la sua presenza Gesù sarà con te per mezzo dello Spirito Santo che vive in noi e la sua sarà una presenza costante amén il Signore è sempre con noi ciò che è importante è che noi comprendiamo che Lui non è con noi soltanto quando sentiamo la sua presenza Lui è con noi sempre anche quando non sentiamo la sua presenza se siamo Suoi figli Lui è con noi tutti i giorni della nostra vita Gesù sarà con noi nei nostri successi sarà con noi nei nostri fallimenti sarà con noi nelle nostre paure sarà con noi nei momenti di audacia nei dubbi nelle certezze quello che dobbiamo fare è pregare certamente coltivare comunione affinché la sua presenza sia percettibile ma quando anche non la sentiamo probabilmente perché siamo un po' sordi ma Lui non è che si è allontanato non è che ci ha lasciato non è che non ci ama più o non si cura più di noi Lui ha fatto delle promesse e Lui è fedele e mantiene le promesse quindi quando condividi il Vangelo non sei mai solo Amen e questo è straordinario il fatto di sapere che io non sono solo mentre sto parlando agli altri di Gesù che Gesù è lì vicino a me e con me e dentro di me mi aiuterà mi sosterrà mi fortificherà e mi porterà ad ubbidire perché quello che noi dobbiamo fare è soltanto ubbidire Gesù promette anche la sua autorità questo maestro divino promette la sua autorità e la promette ricordandoci che Lui ha l'autorità queste parole che Lui pronuncia qui nel verso 18 del capitolo 28 di Matteo allontanano la paura dalle nostre per le nostre insufficienze incapacità allontanato allontanano l'esitazione perché spostano l'attenzione sulla capacità di Dio sull'adeguatezza di Dio sulla sufficienza di Dio del nostro Signore Gesù Cristo che si è impegnato a stare sempre con noi in altre parole Gesù sta volendo dire che Lui ha sempre il controllo Amen Lui ha il controllo anche quando le cose vanno male quando le cose non vanno secondo come noi pensiamo o come noi desideriamo Lui rimane sempre in carica e lì seduto sul trono sta regnando ed ha sempre il controllo ed Egli farà dei miracoli tali da far convergere tutte le cose anche le cose negative che ci fanno male se noi rimaniamo fermi e fedeli per il nostro bene e questo dobbiamo crederlo e dobbiamo crederlo con tutto il cuore e poi Gesù promette anche la sua potenza questo maestro divino promette la sua potenza Gesù parlò di questa potenza che avrebbero ricevuto i discepoli quando lo Spirito Santo sarebbe sceso su di loro ancora oggi possiamo contare su questa potenza ancora oggi abbiamo bisogno di questa potenza abbiamo bisogno di questa potenza perché? perché siamo deboli siamo fragili da soli non ce la potremmo fare lo Spirito Santo prenderà le nostre parole deboli e gli attribuirà una grande potenza che sarà salvifica per coloro che l'ascolteranno l'Evangelo è potenza di Dio non perché noi siamo potenti predicatori ma è potenza di Dio perché colui che lo ha inviato colui che lo ha dato è potente anzi è l'onnipotente amen e noi dobbiamo credere in questo aiuto costante e supremo che ci viene offerto dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo il Maestro divino che ci accompagnerà continuamente lungo il nostro cammino qualche domanda? se qualcuno desidera qualche domanda faccio un cenno gli daremo la possibilità tutto chiaro? bene l'ultimo punto un modello divino io spesso adesso userò il termine pentecostale perché riteniamo di stare cercando di identificare questo modello divino nell'espletamento della nostra missione nell'espletamento del nostro mandato della missione della Chiesa noi partiamo sempre da questo verso spesso lo citiamo atti 1.8 dove sta scritto ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra vedete io credo che ogni vero pentecostale è un evangelista è un annunciatore del messaggio della salvezza perché se noi siamo pentecostali nel senso che abbiamo ricevuto questo battessimo di potenza questa pienezza di Spirito Santo la Bibbia dice che ha uno scopo questo dono di Dio ha uno scopo e lo scopo è servire il Signore nello specifico servire il Signore nell'annuncio del Vangelo ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra naturalmente questo non significa che chi non è stato battezzato nello Spirito Santo non debba testimoniare certo dobbiamo farlo nella misura in cui è possibile nella misura come possiamo ma la pienezza di Spirito Santo conferisce ancora una maggiore potenza per poterlo fare e naturalmente ci responsabilizza ancora di più nel farlo perché siamo quei testimoni abilitati che Dio si chiama per annunciare il suo Evangelo quindi i Pentecostali vedono nell'effusione dello Spirito Santo in tutto il mondo su dei veri credenti in Cristo come l'annuncio di un'era finale del raccolto noi crediamo di essere nell'era finale del raccolto in effetti si sta parlando ultimamente molto di più di missioni e in effetti le missioni sono bellunci dall'essere passate di moda alcuni vorrebbero che si desse un taglio alle missioni perché tanto chi deve annunciare il Vangelo lo ha annunciato ci sono tanti altri mezzi per annunciarlo ma il Signore ci chiama ancora ad essere araldi del Vangelo le missioni stanno sempre di più diffondendosi nelle chiese più recenti le chiese sentono il peso di inviare in missione e se anche se gli evangelici in genere hanno molto in comune i pentecostali hanno il loro modello distintivo proprio nel campo dell'annuncio del Vangelo proprio nel campo delle missioni noi crediamo veramente spero che l'Evangelo è potenza di Dio per chiunque crede i pentecostali non possono esimersi dall'annunciare il Vangelo i pentecostali sono a volte insistenti i pentecostali non perdono le occasioni i pentecostali vogliono essere lì in mezzo alle piazze a programmare l'Evangelo sto parlando naturalmente delle chiese che intraprendono delle visioni intraprendono delle iniziative dei progetti dei programmi chi mette le tende in mezzo alle piazze non so se si fa anche qui nella zona di Milano non in tutti i posti è possibile purtroppo a causa delle ristrettezze comunali delle leggi che vi sono sono credenti pentecostali se voi trovate della gente che sta predicando il Vangelo in una piazza generalmente sono credenti pentecostali perché? perché noi crediamo alla potenza della predicazione e ci vogliamo continuare a credere vogliamo continuare a insistere perché sappiamo che è l'unico mezzo di salvezza quindi nel modello pentecostale ci sono delle caratteristiche basilari alcune delle quali sono proprio tipiche dei pentecostali i pentecostali credono che lo spirito santo come dicevo prima è stato mandato sulla chiesa per conferire potenza di andare in tutto il mondo e predicare il Vangelo e questa convinzione si basa sugli insegnamenti di Cristo si basa sugli insegnamenti degli apostoli si basa su questo testo che abbiamo letto in atti 1-8 in cui Cristo ha dichiarato che lo scopo del riempimento del Spirito Santo sarebbe quello di testimoniare di lui fino agli estremi confini della terra i pentecostali incoraggiano i credenti a essere ripieni di Spirito Santo affinché la chiesa possa evangelizzare il mondo prima del ritorno di Cristo vedete la pienezza di Spirito Santo ha uno scopo ben chiaro ha uno scopo ben definito che non è soltanto il dire io sono stato battezzato ma è ricevere un'abilitazione per essere quei servi che Dio desidera che noi siamo quindi il modello pentecostale è un modello biblico che noi attingiamo dalla scrittura dalla scrittura in cosa si contraddistingue questo modello biblico permettetemi se usa ancora il termine pentecostale in primo luogo l'orientamento del movimento pentecostale di cui questa chiesa fa parte di cui la mia chiesa fa parte è anzitutto di ordine cristologico cioè il centro della nostra predicazione è Cristo è Cristo il centro della nostra predicazione i pentecostali credono che la potenza dello spirito santo sia data per predicare Cristo essi credono nella sua nascita virginale da Maria la sua vita senza peccato i suoi miracoli la sua morte la sua resurrezione e il suo ritorno personale vedete la validità delle esperienze soprannaturali o fenomeni di risveglio come alcuni li identificano è ritenuta il risultato della predicazione incentrata su Cristo Gesù se vuoi che qualcosa accada incentra la tua predicazione su Cristo Gesù in modo tale che la convinzione di peccato si manifesti portando al pentimento e le vite possano essere trasformate la Chiesa benedetta tutto questo può avvenire se al centro del nostro annuncio della nostra predicazione mettiamo Cristo Cristo non è una teologia moderna o per quanto riguarda o per quanto può essere anche accattivante ma il centro della predicazione nostra deve essere Cristo e Cristo crocifisso produce effetti di salvezza e di miracoli in secondo luogo l'esperienza pentecostale scaturisce nella convinzione di peccato purtroppo assistiamo oggi nel nostro ambiente vasto cosiddetto evangelico a tanti cambiamenti di Chiesa la gente spesso cambia Chiesa cambia religione ma non cambia la condizione spirituale non cambia la condizione spirituale noi crediamo per quello che insegna la parola di Dio che l'esperienza vera cristiana l'opera dello Spirito Santo deve portare alla convinzione di peccato Gesù ha promesso che quando lo Spirito Santo sarebbe venuto avrebbe convinto il mondo in quanto al peccato alla giustizia e al giudizio quindi noi crediamo che siamo ripieni di Spirito Santo per ministrare quel senso di convinzione al mondo senza la quale non vedrà la salvezza di Cristo e dobbiamo credere in quello che appunto la parola di Dio dice anche se le chiese pentecostali sono spesso tra coloro che promuovono metodologie per la crescita della Chiesa la convinzione non è mai stata che queste metodologie sono la causa principale della crescita della Chiesa non sono i metodi per quanto buoni e per quanto possano aiutare che fanno crescere la Chiesa ma le Chiese pentecostali credono di crescere proprio perché sono pentecostali perché danno spazio all'opera dello Spirito Santo questo è il metodo di Dio la Chiesa del primo secolo cresceva perché lo Spirito Santo era all'opera è un fenomeno che noi stiamo vedendo sotto i nostri occhi è che le Chiese pentecostali nel mondo sono le Chiese che possono registrare una maggiore ed esponenziale crescita mentre tante altre Chiese mi riferisco anche alle Chiese storiche purtroppo ai loro ci dispiace stanno morendo spiritualmente perché? perché hanno escluso lo Spirito Santo dal loro culto dalla loro vita di fede e dal loro servizio che vogliono rendere al Signore è importante l'opera e l'azione dello Spirito in mezzo alla Chiesa del Signore in terzo luogo il modello pentecostale ancora il modello pentecostale per quanto riguarda l'annuncio del Vangelo la missione della Chiesa ha una forte identificazione con i poveri con i sofferenti con gli emarginati della società quindi quando noi parliamo di evangelizzazione stiamo anche parlando di opere sociali di opere sociali questo è importante perché molte volte le opere sociali aprono le porte alla vera evangelizzazione evangelizzazione ad esempio noi stiamo adesso operando come assemblee di Dio in Albania in alcune zone molto povere dove è possibile entrare in alcune case se si porta un dono sono zone molto povere noi facciamo dei pacchi di vivere ad esempio un modo per evangelizzare li portiamo in queste famiglie povere dentro questi pacchi dove mettiamo genere di prima necessità mettiamo anche una copia della Bibbia del Nuovo Testamento andiamo lì ci aprono le porte riusciamo a pregare il Signore insieme a loro e già un seme viene seminato grazie a Dio diversi di loro attraverso questo metodo sono stati condotti alla salvezza naturalmente i cristiani pentecostali si sono sempre distinti perché sono stati sempre pronti ad aiutare in tempi di disastri naturali di guerra di calamità di bisogno i pentecostali sono stati sempre persone del miracoloso in quanto hanno confidato nell'iddio dei miracoli per superare quelli che erano gli ostacoli oggettivi che a volte si potevano presentare e i racconti di miracoli sia all'interno del racconto biblico sia della Chiesa o della Chiesa contemporanea sono stati visti come cose che hanno portato in qualche modo a riflettere e avvicinarsi anche al Signore anche se alcuni magari li hanno contestati ma i puri di cuore avranno avuto modo di gridare a Dio e di invocare il nome del Signore e ricevere salvezza vedete i pentecostali si sono sempre distinti da una visione illuminista la distinzione sta proprio in questo nel fatto che noi accettiamo i miracoli confidiamo nel Signore e cerchiamo di predicare quello che alcuni altri evangelici purtroppo hanno escluso e cioè che Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi è in eterno viviamo in un mondo in cui voi incontrerete dei fratelli evangelici in cui vi diranno no i miracoli solo per i tempi apostolici mentre noi crediamo che anche oggi è tempo di miracoli che il Signore non ha abidicato ancora è ancora lì sul trono sta regnando e noi vogliamo continuare a credere nella sua onnipotenza i pentecostali si aspettano che la loro chiesa cresca perché sanno che il Signore è all'opera in vista di questa crescita si impegnano a servire il Signore ci ha abilitati attraverso lo Spirito Santo e noi crediamo di poter riuscire in questo compito che ci ha affidato non per forza nostra o per potenza nostra ma per lo Spirito di Dio Amen avete pazienza che sto correndo ma stiamo arrivando all'orario quindi le razze le classi sociali tutte quanti hanno bisogno del Signore e noi dobbiamo annunciare il Vangelo di Gesù Cristo a tutte le creature perché ancora oggi il Signore si aspetta da noi che siamo dei testimoni del Vangelo quindi concludendo la nostra priorità come Chiesa deve essere l'annuncio del Vangelo naturalmente questo annuncio del Vangelo può comprendere tante altre cose ma lo scopo finale principale prioritario deve essere quello di portare salvezza e vita eterna alcune a volte dicono ma voi non fate nulla di sociale non è vero noi facciamo delle attività sociali ma non è quella la nostra priorità non è quella la nostra priorità noi abbiamo messo in campo adesso ad esempio in Albania un progetto medico vi sono bambini 7, 8, 10 anni 15 anni che non sono stati mai visitati da un medico e alcuni di loro chi rischiava di perdere l'uso delle orecchie rischiava di diventare sordo chi rischiava di perdere l'uso della vista chi aveva i denti tutti marci perché mai un medico l'aveva visitato chi aveva problemi allo stomaco quando bastava pochissimo per poter in qualche modo aiutarli e ultimamente abbiamo fatto 300 visite mediche con un'equip un check up completo a chi magari ha una serie di persone di bambini per cercare di aiutarle e poi approntare le cure ma lo scopo principale per quanto noi carità vogliamo che la gente goda ottima salute non è che goda ottima salute lo scopo principale è che siano salvati e a volte per poter parlare loro del Signore dobbiamo metterlo in condizione di avere una porta aperta di avere una porta aperta e quella è una porta aperta e quella è una porta aperta ognuno che veniva lì per essere visitato gli parlavamo del Signore gli annunciavamo la grazia di Dio gli regalavamo un Vangelo e cercavamo di approntare le cure perché alcuni credenti purtroppo perché vi dico questo perché il rischio ci potrà essere quello di puntare solo ed esclusivamente sul sociale escludendo quella che invece è la missione della Chiesa che è la predicazione del Vangelo ci sono delle Chiese storiche che ormai si dedicano solo al sociale ospedali centri per anziani tutte cose buone ma non sono risolutive cosa importa se uno va in cielo godendo ottima salute o se va in cielo avendo avuto qualche problema di salute durante la sua vita cosa importa se uno va all'inferno in ottima salute o in buona salute ciò che fa la differenza è dove si passa l'eternità e se a volte per dare il messaggio di salvezza bisogna naturalmente cercare di fare compiere delle opere sociali benvengano ma mai sostituire quello che è la missione prioritaria della Chiesa con cose secondarie per quanto importanti e buone possano essere noi siamo chiamati per fare le buone opere ma le buone opere come testimonianza della salvezza che abbiamo ricevuto in Cristo Gesù il Signore ci sono tanti filantropi grazie a Dio anche per le cose buone che fanno ma soltanto noi come figli di Dio possiamo fare del bene che sia risolutivo per l'eternità e comunicare salvezza e vita eterna questa è la missione prioritaria della Chiesa del Signore Gesù Cristo la nostra missione la mia e la tua qualche domanda prima di concludere no grazie 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 se c'è qualche domanda conclusiva se qualcosa non è chiara magari non vorrei che non vi lasciasse dormire tutto chiaro vi chiedo scusa se in qualche cosa sono stato un po' troppo irruendo abbiate pazienza eh ma spero di aver cercato ci ho provato almeno di comunicarvi quello che era il sentimento del cuore è quello che crediamo la parola di Dio ci insegna bene Signore vi benedica grazie della vostra pazienza della vostra attenzione del vostro conforto pregate per me io mi ricorderò di voi e del pastore grazie pastore Gargano ci vuole buon applauso sono veramente felice di aver ascoltato questo programma così chiaro e così completo